Al termine di tre giorni intensi caratterizzati da incontri, tavoli tecnici e visite tra l'Accademia Navale di Livorno e la Base Navale di La Spezia, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe De Giorgi ha tracciato un bilancio e soprattutto le linee guida da seguire per una riorganizzazione della Forza Armata che la mantenga efficiente malgrado i tempi di crisi. Il bilancio è molto positivo, abbiamo visto luce d'ombre, direi che le luci sono fondamentalmente la constatazione intanto di un'organizzazione molto valida per quello che riguarda le permute e anche il processo generale di ammodernamento delle strutture. L'altra luce importantissima è la conferma della disponibilità di capacità specialistiche tali nell'ambito delle nostre forze proprio dei militari che ci sono qui, dei marinai, dei sotto ufficiali soprattutto, che saranno fondamentali per quello che riguarda la rinascita di una capacità che avevamo una volta che dobbiamo riprendere, cioè quella del genio militare marittimo. Questo genio marittimo che priorità avrà? La priorità è sugli alloggi. Noi dobbiamo ripristinare rapidamente nel modo più efficace e quindi costo efficace la disponibilità di tanti alloggi che abbiamo e che attualmente non sono disponibili per carenza di soldi di manutenzione. Quindi i nostri uomini li sistemeranno sfruttando le loro capacità opportunamente incrementate con corsetti, corsi ad hoc e percorsi formativi che si poggiano sulle loro capacità già residenti nelle diverse categorie e servirà tutto questo proprio per velocizzare sui tempi, risparmiare sui fondi che verranno destinati ad ulteriori infrastrutture.